Ritorna la Clericus Cup, il mondiale calcistico della Chiesa con 16 squadre di sacerdoti e seminaristi in rappresentanza di 70 nazioni, 330 giocatori in campo dal 7 marzo al centro P11 di Roma, finalissima il 30 maggio, tre giorni prima, il mercoledì precedente, udienza da Papa Francesco che l'anno scorso firmò il ballone della competizione. Nel torneo che non prevede il pareggio, Pray and Play, prega e gioca, è il motto che campeggia sulle maglie dei partecipanti della 14esima edizione. È un messaggio molto forte soprattutto per chi si occuperà o si sta occupando del mondo giovanile, cioè di essere presenti, non aver paura di giocare la propria vita di sacerdoti anche accanto ai giovani e non solo genericamente nella pastorale giovanile. I giovani sono concreti, sono reali e questi giovani concreti e reali sono giovani che amano anche lo sport e hanno bisogno di avere accanto qualcuno che voglia loro bene lì in quel campo. La manifestazione promossa dal Centro Sportivo Italiano, Ufficio Sport della Scei e Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano vede quest'anno il debutto della squadra argentina. Anche l'Argentina ha voluto partecipare come collegio di questo campionato, è una responsabilità molto grande per poter rispondere anche in campo al Papa, già che vogliamo rispondere sempre nella pastorale, nella vita della Chiesa, anche in campo dobbiamo rispondere a lui. Grazie. Grazie. Grazie.